le difficoltà nella fase iniziale. Al gioco favorito OneFoto 2.68 al momento di poco comunque nei confronti di Neivasha 3.07 poi 5.31 la scuderia Fotoemon Clasier Like 6.33 Orcacaf con Andrea Buzitta. Ma i cavalli sono già dietro la macchina dunque va in partenza la quarta corsa di Palermo. Quarta corsa di Palermo, indigene a reclamare sulla distanza del miglio favori al gioco per il numero 11 OneFoto. Partono a mille come da Copione gli specialisti Neivasha e Fotoemon SM. Prova a tenere botta anche Piuma Bon lungo la corda. Prende in mano Massimo Zanca con Fotoemon SM ma non è facile ripiegare con un cavallo che si è così scatenato in partenza. Piuma Bon però dà l'impressione di non volere tenere a tutti i costi la scia di Neivasha e così Fotoemon SM ne prova a scendere alla corda ma la manovra si rivela molto complicata. Fotoemon SM riesce comunque a rimettersi di trotto. Nel frattempo sbaglia e viene squalificata Polda dunque resta secondo Fotoemon SM dietro Neivasha in terza posizione Piuma Bon. All'esterno prova a venire avanti Mistral dei Fiori in terza ruota adesso seguito anche da OneFoto che prova a prenderne la scia. Scia però che è stata guadagnata da Andrea Buzitta con Orca Caff quindi prestazione a questo punto un po' complicata per il favorito OneFoto 44 e mezzo ai primi 600 metri della capofila Neivasha interpretata dall'ex allievo da poco uscito da questa categoria Giuseppe Longo. Fotoemon SM ne tiene la scia per linee esterne un redivivo Mistral dei Fiori prova a dare fondo alle sue energie. Si va abbastanza veloci con OneFoto che continua la sua progressione in terza ruota davvero molto incisiva però dietro di lui guata in posizione d'attesa Andrea Buzitta con Orca Caff che ha fatto tutto davvero a pennello e potrebbe adesso trovare il modo per sfruttare lo schema più favorevole e sbaglia Mistral dei Fiori e stanca Neivasha. Comunque OneFoto dà l'impressione di riuscire a reagire almeno per il momento al tentativo di Orca Caff ed entra al comando in retta d'arrivo però rinnova gli attacchi Andrea Buzitta con Orca Caff. Orca Caff insiste nelle ultime fasi. OneFoto prova a difendersi un testa a testa davvero incerto e sul palo è Orca Caff. Orca Caff gli è venuta troppo bene o meglio gliel'ha fatta venire troppo bene Andrea Buzitta ed ha sfruttato lo schema per castigare sul palo un OneFoto che per come accorso avrebbe meritato sicuramente la vittoria. Dunque Orca Caff numero 10 al traguardo Andrea Buzitta. 4,44 la quota. Negli ultimi metri è riuscito a pizzicare sul traguardo OneFoto. Training di Vincenzo Fasciana, colori di Leonardo Vastano. Sul mio cronometro un tempo di poco superiore ai due minuti. Niente da fare per Giuseppe Porcio Junior che ha avuto davvero una corsa molto difficile. Per il terzo posto c'è parso che sul traguardo sia stato Portughervo ma andiamo un po' a rivedere la fase finale. No, niente da fare. Per il terzo posto c'è una foto piuttosto stretta quindi per il terzo posto rimandiamo al giudice d'arrivo ma è probabile che Fotoemon SM numero 6 di misura si sia salvato da Portughervo. Dunque in numeri 10, 11 e fotografia per il terzo fra il 6 e il 3 questo è l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della Portughervo.